Allora, benvenuti a tutti. Ufficialmente diamo il via a questa ultima puntata di Artes Academy, dove mettiamo in luce dei temi formativi e informativi e ho il piacere di presentare alla nostra audience, Luca Colussi, che è un grande esperto del mondo del vino, del mondo agricolo, del mondo rurale e nella fattispecie di tutte le problematiche legate all'enoturismo. Abbiamo chiesto un intervento che sia introduttivo, il titolo di oggi è specializzare la propria attività nell'enoturismo. Quindi cosa vuol dire? Parliamo sia a coloro che ancora non fanno niente o quasi nulla, ma direi anche a quelli che invece fanno già qualcosa, perché, come penso poi Luca dirà, siccome c'è un grande fermento sull'enoturismo, un mercato, il tema enogastronomico in generale è un tema che sta tirando molto sul turismo, diciamo al netto del covid, sui numeri del turismo è un trend certamente importante, ma lo si vede anche dalle trasmissioni televisive, insomma c'è tutta una cultura del benessere, l'alimentazione, la sostenibilità, eccetera. Il vino, la cultura del vino è entrata negli ultimi decenni in modo preponderante sia nella produzione, ma più recentemente anche nel turismo c'è stata un'esplosione. Quindi la domanda, diciamo, penso un pezzo dell'argomento sarà, per chi vuole entrare, cosa vuol dire fare no turismo, come attrezzarsi, quali sono gli aspetti anche normativi da tenere presente, chiaramente diciamo in questo momento faremo solamente degli accenni, ecco sarà una cosa molto veloce. E per chi invece è già dentro nell'enoturismo, come fare a non appiattirsi? Perché c'è anche il rischio che alla fine, sai, la degustazione, la visita di cantina, e alla fine, adesso non voglio dire che sono tutte uguali, ma c'è il rischio di appiattirsi, quindi c'è un problema di distinguersi. Quindi questi due temi, come entrare, quali sono gli aspetti da tenere presente di questo mercato per chi non ha esperienza e come migliorare per chi invece già ha esperienza. Allora, grazie ancora a Luca per la sua disponibilità a tenere questa lezione. Io passo la parola a lui e magari si presenterà con qualche elemento in più rispetto alle poche cose che io vi ho raccontato. e io adesso scompaio e riapparirò fra una quarantina diminutiva sulla fine del tempo previsto. Grazie ancora e buona trasmissione. Grazie a te Maurizio e un caro saluto a tutti quanti e a quelli che sono collegati. Direi di sì, Maurizio, proprio centrato, quello che è il tipo di taglio che vorrei dare a questo mio intervento, legato proprio a cercare di dare una serie di indicazioni utili, tanto a coloro che sono gli operatori specializzati nel settore turistico per conoscere un po' più a fondo quelle che sono le realtà agricole ed agroalimentari che stanno sempre più spingendo la propria professionalità, oltre che nella vendita, nel contatto diretto con il turista e con l'ospite. ma cercherò di dare una serie di elementi utili anche proprio alle cantine stesse, insomma, che vogliono correttamente distinguersi da quello che è un'offerta enoturistica sicuramente consolidata, ma nella quale c'è possibilità di crescere ancora molto, effettivamente nella capacità di distinguersi, di essere unici all'interno di un contesto, però che veda tutti quanti lavorare indubbiamente insieme. Mi presento con qualche elemento in più, ringraziando per quella che è stata l'introduzione di Maurizio, sono un consulente, opero nel mondo dell'agricoltura da circa 30 anni, lavoro anche con Coldiretti nella realtà di Treviso, e in particolare sono un esperto di multifunzionalità delle aziende agricole, per cui di questo inizierò a parlarvi oggi perché ritengo che sia il punto di volta di questo, non direi fenomeno, ma di questa realtà che stiamo ormai vivendo da ricordare grazie a tutti 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 grazie a tutti